Brutte notizie per gli automobilisti, la benzina verde ha registrato un nuovo record, toccando 1,63 euro al litro, da gennaio è aumentata di 13 centesimi. Non va meglio per il diesel, che ha superato ampiamente l'euro e 50, 25 centesimi in più da gennaio. Prezzi inconcepibili, non raggiunti nemmeno quando il petrolio andò a toccare i 147 dollari al barile, ora si aggira sui 98 dollari. Ma dietro agli aumenti dei carburanti, gli esperti indicano la debolezza della moneta unica e le preoccupazioni sull'eurozona, ma il caro benzina e gasolio per i consumatori rappresenta una delle voci più rilevanti del bilancio familiare. E allora noi abbiamo sentito nel merito Gude Bauhofer del CTCU. Noi a fine giugno abbiamo rilevato i prezzi praticati in Alto Adige e abbiamo scoperto che in realtà, anche scegliendo sempre il distributore più conveniente, il potenziale di risparmio non è che sia grandissimo. Arriviamo a un 60 euro per la benzina e un 55 per il diesel, che davvero non è molto. Per quanto riguarda invece i carburanti alternativi bisogna fare i conti con un particolare. In Alto Adige, su 65 impianti, solo 12, secondo il CTCU, sono risultati dotati di GPL e nessuno di quelli sulle strade statali risulta aperto la domenica. Solo 4 invece gli impianti di gas metano. Converrebbe invece tanto il metano al posto del diesel o della benzina. Il problema lì è che ci sono pochi distributori. Ad esempio noi ne abbiamo trovato solo uno che è aperto tutta la settimana, il che per tutto l'Alto Adige è davvero pochissimo. Intanto i distributori stradali e autostradali aderenti alla Faibe e Fegica hanno indetto uno sciopero dalle 22 del 25 luglio alle 22 del 27 luglio. Quindi se siete prossimi alla partenza per ferie o weekend, organizzatevi per tempo. Il rischio code per il rifornimento è dietro l'angolo.